Oh cazzo, 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 oh oh oh, codardi di merda. E bella a tutti i mozzarelloni, io sono Cipo e oggi stiamo qua col settimo episodio della Cipo's Adventure. Come ben potete vedere dalle immagini, ho cambiato la skin del mio personaggio e mi sono fatto un po' più nerd, diciamo. Stile protagonista di Big Bang Theory, non mi ricordo adesso come si chiama, mi pare Sheldon, Sheldon Cooper, non trinciatemi se ho sbagliato, però vabbè. Ok ragazzi, ok, dobbiamo finire la casa, questa è la seconda parte, e siamo pronti a far qualcos'altro. Allora, per prima cosa dobbiamo continuare il muro perché così fa proprio schifo, quindi io direi di farci una piccola scheletta per salire rapidamente. Quindi togliamo questa torcia, facciamo una qua, una qua, ok per adesso va bene. Allora, che cazzo fail? Ok, allora, mi chiede, ne stavo per fare un altro, guardate, sto per cadere, sto per cadere, vabbè. Allora, uno, io stavo pensando, visto che così è un po' più basso, magari facciamo ancora altri due livelli. E poi direi di chiudere il primo piano. Stavo pensando che così potrebbe anche andare bene, quindi cominciamo a chiudere il tetto. Cazzo, così però non ci arrivo, allora, facciamo così, anzi no, sbagliato. Facciamo così, allora, saltiamo di qua, intanto facciamoci la nostra scaletta. No, sbagliato. Ok, facciamo una qua. Così fa da pro. E va bene, allora direi di cominciare a chiuderlo. Il tetto. E mi sa che il legno non ci basta. E mi sa proprio di no. Quindi dobbiamo andarlo a rifare. Mi sa che proprio lo sto finendo. Ok, finiamo questi dieci. Uno e due. Ovviamente, se non sbagliavo non ero cibo. Comunque. Allora, ho finito il legno. Magari utilizziamo questo come possiamo. Ok, allora direi di andare a prendere un altro po' di legna. Però, prima, ovviamente di andarmi a fare l'armatura di ferro. Allora che mi ero prefissato nello scorso episodio. Dato che dopo l'esposizione del creeper, veramente rischiavo di morire. E quindi mi sono deciso di fare una bella armatura. Visto che abbiamo anche abbastanza lingotti di ferro. Quindi, va bene. Allora, eccoci quel ferro. Intanto abbiamo anche due di diamante. Perché più in là potremmo anche farci una spada. Ma non adesso. Comunque, allora. Crafting table qua. Vabbè, ci andiamo a fare di l'armatura. Prima però andiamo a tagliare un po' di legna. Ok, vediamo se questi 15 di legno ci bastano. Sì, ci bastano 60, penso. Intanto sto morendo di fame. Quindi direi subito di mangiare. Ok, magna, magna. Va bene. E andiamo a finire il tetto. Ok, così penso potrebbe anche andare bene. Quindi posiamo il crafting table tipo... In una posizione momentanea, tipo qua. E andiamo a farci l'armatura. Intanto questa non so veramente dove metterla. Comunque, andiamoci a fare una maglia di pantaloni. Purtroppo questa non si può colorare. Peccato. Mi sarebbe veramente piaciuto colorarla. Comunque. Ok, adesso facciamoci pure il casco. E diventiamo full iron. Allora mettiamoci l'armatura. Ehm, così. No, come si mette? Ok, così. 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 E così. Va bene. Ok, intanto rimettiamoci questo. E vedi come siamo bellini. Con le nostre cuffiette. Comunque. Allora. Ehm, cosa dobbiamo fare? Ehm... Ah sì. Cominciamo a fare tipo delle finestre. Sì. Allora qua. Oh cazzo. Ok. Uno, due, tre. Sì, così vanno bene. Tac. Dai, così va bene. Allora. Uno, due, tre. Dai, così va bene. Dai. Ok, però ci serve anche della sabbia. Ehm, andiamoci subito a fare una pala. Sì. Vabbè. Ce la faremo domani. Intanto andiamo di scavare un po' di sabbia. Intanto si sta facendo pure notte. Quindi direi di provare il nostro indumento. Ok. Andiamo a cercare un po' di zombie da ammazzare. Intanto scaviamo ancora un po' di sabbia. Ok, direi che così può bastare. Ok. Intanto ho ancora sti lingotti. Direi di lasciarli. No, vabbè, non li lascio. Perché devo andarmi a riprendere la cesta. Però se li perdo ovviamente mi incazzo di brutto. Intanto vediamo come sono bello. Ok, penso che dovrei trovare i primi mostri, ma non li vedo. Non li vedo, dove sono i mostri? Ok. La vedo già che stanno facendo un po' di bordello. Sì. Allora, uno scheletro e un ragno. Va bene. Allora. E la vedo anche uno zombie. Allora. Traversiamo subito l'isola. E andiamo a castigarli. Ok. Vedo anche un porco. Non me ne era accorto? Sì, me ne era accorto. Allora. Oh, cazzo. 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 Oh, oh, oh. Oh, codardi di merda. Oh, mi rompono l'armatura. Bastardi di merda. Mi conviene scappare in questi casi. Scappa, scappa, scappa. Scappa, scappa. Non mi prenderai. Ok. Ho sperato. E intanto un altro lagnetto. 3. No, 2 contro 1. Ok, uno l'ho ammazzato. Tocca a te. Mori. Mori. Oh, 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 oh. Mori. Ok, livello 20. Intanto, dove è lo scheletro? L'ho perso di vista, no, è là. È là lo scheletro. Bastardo. Allora. Direi di andare a cuocere il carbone. Sì. Però prima devo prendere appunto le fornacce che ho nella casa precedente. Se si può così chiamare. Io mi stavo chiedendo come dovrei fare a trasportare tutti questi oggetti nell'altra casa. Veramente, ve lo chiedo. Allora, togliamo le fornaci. Ok. Intanto mangiamo. Ok. Intanto quanto mi ha tolto? Eh. Un po' mi ha tolto di armatura. Comunque. Eh, sì. Io direi di far così, eh. Vabbè, lo facciamo domani. Intendo il lavoro di spostare le cesti. Oh, sento qualcuno. Mori, bastardo! Oh, non muore. Ok. Oh, io direi di coprirci per questa notte che non mi fido, eh. Ok. Così non dovrebbero entrare. Allora, prendiamo le fornaci, le mettiamo... Cos'è? Sì, però adesso le mettiamo così. Molto bene. E direi di cuocere il... La sabbia. Ok. Allora, io direi di andare a dormire. Ok. Abbiamo fatto una bella dormita. Penso. E sento delle ossa bruciare. Sono qua dietro. Sono qua dietro. Vedi che vi dicevo? Mori, si tronzo. Mi ha dato delle frecce. Buono, buono. Allora, là c'è qualcosa. Niente. Ottimo. Penso che tutto quello che c'era è morto. Ok. L'obiettivo che mi ero prefissato era di, appunto, trasportare le ceste. E... Appunto. Ok, ne ho qua. E direi di toglierle. Allora. Anche se qua abbiamo un bel po' di roba. Vabbè. Trasporteremo a fasi. Allora. Ok. Qua c'è un sacco di cose che non riesco a prendere. Allora. Subito corriamo. Facciamo così. Allora. Dov'è la cesta? Qua. Ok. Corriamo, corriamo, corriamo. Uno, due. E tutta questa roba la portiamo di là. Poi quando ho tempo sistemerò il tutto. Ok. Andiamo a prendere il secondo girone. Prendiamo sta torcia. Ok. Allora, ok. Prendiamo tutto questo. Sì. Ci sta. Ci sta. Ok. La io direi di tappare questa caverna. E la... Ok. Direi di tapparla. Gli diamo l'ultimo saluto. E intanto stacchiamo quella torcia. Ok. Diamole l'ultimo saluto. Ok. Niente. Ok. L'abbiamo tappata. Sei stata d'onore e ti onoreremo. Basta. Ok. Ok. Andiamo a riposare il secondo girone. Ok. Il vetro è pronto. Sì. Sì. È bello pronto. E andiamo a posizionarlo. Ok. Attenti solo a non sbagliare che... Eh... Se no so cazzi. Ok. Uno, due, tre. Uno, due, tre. E uno. Ok. Qua pure. Uno, due, tre. Uno, due, tre. E uno. Ok. Vediamo il risultato da fuori. E dai non sta venendo maluccia. E poi ci dobbiamo anche fare il secondo piano. E poi il tetto. Ok ragazzi. Il settimo episodio della Cipas Adventure è finito. Noi ci vediamo col prossimo video. Bye bye. Noi ci vediamo col prossimo video.